Ragazzi, quando parlo di lotta alla corruzione, di investimenti pubblici, ecco, De Magistris chiede più soldi. Al sud tanti cittadini, tanti amministratori locali non mi chiedono più soldi, mi chiedono più onestà e gli stessi soldi spesi meglio. Parliamo di fondi gestiti della regione molto spesso. Assolutamente, quindi se qualcuno ha sbagliato deve pagare, ma questo a Napoli come a Milano, a Treviso come a Catania. In Italia purtroppo non c'è certezza che chi sbagli paghi. Poi la salute avviene prima di tutto, se ci sono aziende complici vanno punite, vanno sequestrate, vanno confiscate. Nomineremo, non faccio nomi perché l'ho detto prima, però sul tema politiche ambientali, pulizia, qualità dell'aria, qualità della vita, qualità del terreno, inquinamento, abbiamo uomini e donne all'altezza di dare risposte sicure e veloci. Ma lei come mai non è venuto a Napoli? Non è venuto a Roma, però lei comunque a Napoli quest'anno l'ha evitata. No, io ci torno da Presidente del Consiglio a Napoli. Ti torno a Presidente del Consiglio a Napoli. Salvini, scusate, qualche anno fa andò a Salerno a incontrare De Luca indicandolo come esempio di buona amministrazione al di là degli schieramenti. Era un bravo sindaco, mi sembra un pessimo governatore. Ha cambiato idea? No, ha cambiato idea, lui è cambiato mestiere. Non sempre un bravo sindaco è anche un bravo governatore, quindi ritenevo fosse un bravo sindaco, mi sembra che i dati e quello che sta emergendo dicano che non è un bravo governatore. Però il candidato del centrodestra in questo collegio, o meglio la candidata, è sposata con un consiglio regionale che appoggia De Luca. Vabbè adesso non è che possa mettere becco fra moglie e marito, saranno problemi loro, quindi auguro lunga vita a questa coppia e poi mi auguro che vinca la parte di centrodestra. Grazie.